Allora direi che il quarto d'ora accademico è più che passato quindi iniziamo. Grazie a tutti per essere qui questa sera. Questo è un incontro molto interessante nell'ambito del Festival del Classico che ha la sua sesta edizione. Il circolo dei lettori dicevamo prima non si ferma mai e questo è molto bello perché energia, cultura che fa muovere la nostra città. Io non credo abbiano bisogno di presentazioni. Comunque alla mia destra Francesco Costa, vice direttore del Post e alla mia sinistra Giorgio Cuscito, analista di Limes. Questa sera partiamo appunto questo titolo molto ambizioso tra Oriente e Occidente. Perdonerete se riusciremo forse a parlare di un frammento di questo rapporto così complesso, ma insomma cerchiamo di fare il nostro meglio. Era previsto l'incontro, a questo incontro anche la presenza di Giada Messetti, sinologa che non riesce a collegarsi per problemi tecnici e poi volevo avvisarvi che sarà messo a disposizione al termine di questo spazio. Un video molto interessante del professor Federico De Romanis, che è docente di storia del commercio dell'Università Tor Vergata di Roma e da qualche settimana anche visiti un professor a Pechino. Il suo video parla, diciamo, fa un esegesi molto interessante sulle vie della seta, sulle radici storiche delle vie della seta. Io vorrei parlare di partire da questo perché le vie della seta è una sorta di sineddoche per definire poi tutto un tema molto più profondo di rapporti geopolitici ma anche culturali con la Cina. Ci sono anche qui due letture differenti che qualcuno dice che le vie della seta nell'antichità in realtà non esistessero, che sono un'invenzione di cartografi tedeschi di fine ottocento, qui c'è questa versione, ma poi c'è anche invece una versione che forse è la tua, Giorgio, che è quella che dice che invece le vie della seta esistevano anche come concetto già a partire dall'antichità. Ma che cosa si sapeva nell'antichità e come si è conosciuta la conoscenza reciproca di questi tre poli perché l'Occidente dobbiamo dividerlo per quanto riguarda i rapporti con la Cina in due, il vecchio continente, poi l'America, gli Stati Uniti. Quindi vorrei partire proprio parlando dalla coscienza reciproca, dalla conoscenza ma anche la coscienza, cioè quello che è tutto il significante più ampio che riguarda appunto le interazioni fra queste identità. Partiamo dalla Cina, che cosa, come è stata costruita l'altro nella Cina, nella coscienza geopolitica cinese? Grazie, buonasera a tutti e ovviamente grazie al circolo dei lettori per l'invito. Beh, diciamo che appunto collegandomi al discorso che facevi sulle vie della seta, occorre fare una distinzione ovviamente tra quello che sono oggi le nuove vie della seta e quelle che sono le antiche vie della seta. Cioè quel reticolo che anticamente sin dalla dinastia Han collegava oriente e occidente era in realtà un... non erano delle rotte ben tracciate, erano strade e reticoli che attraversavano appunto la parte occidentale della Cina, le steppe e arrivavano poi tra l'altro non fino all'impero romano, ma fino a Samarcanda. Samarcanda era il vero perno delle vie della seta, non arrivavano di certo a Roma, intanto per sfatare diciamo uno dei miti che... tra l'altro avalla la Cina quando oggi parla della narrazione sulle nuove vie della seta, ovvero la Idai Ilu, cioè che è un progetto molto più complicato che è appunto il progetto geopolitico con cui la Cina proietta i propri interessi, le proprie attività economiche e militari all'estero. Ecco, il tema del nome delle vie della seta, effettivamente sembra che il nome vie della seta sia stato attribuito da un cartografo tedesco, con appunto la parola Seidenstrasse, che serviva in realtà per parlare delle attività della Germania, dei tedeschi, nella parte nord-orientale della Cina dove appunto i tedeschi controllavano dei giacimenti di carbone dopo l'apertura forzata della Cina alle potenze occidentali, quindi dopo le prime guerre dell'Oppio per intenderci. Ecco, quindi come la Cina vedeva l'Occidente all'epoca? In epoca imperiale la Cina sapeva poco dell'Occidente perché nella cultura dell'impero cinese c'era al centro l'imperatore, intorno a lui la corte, poi l'impero cinese e fuori i barbari, cioè l'Occidente era composto da barbari. Solo l'impero romano era considerato dai cinesi di pari livello, addirittura nei testi antichi della Cina si parla degli antichi romani come i Da Qing e Qing era il nome della prima dinastia cinese, quindi era un segno di riconoscimento che l'impero aveva nei confronti dei romani, ma li conosceva molto poco, ci sono stati pochi contatti in realtà. Anche loro ci pensavano, no? Facendo riferimento a questo trend, quante volte pensi all'impero romano? Pensavano all'impero romano. La percezione è cambiata quando? Tra il ventesimo, diciamo, il ventesimo secolo, anzi, diciamo proprio nel 1800, quando gli occidentali hanno cominciato a fare capolino in Oriente, mostrando una capacità, una superiorità anche tecnologica, navale, che ha accolto in preparati i cinesi, superiorità tra l'altro anche che gli occidentali hanno trasferito al Giappone, che poi ha invaso la Cina per ben due volte. Ecco, lì la percezione della Cina è cambiata e hanno cominciato a guardare all'Occidente come anche un punto di riferimento, in particolare agli Stati Uniti, come un punto di riferimento a cui guardare per ambire a tornare potenza una volta crollata la dinastia cinese. Quindi c'è stato un trauma, sostanzialmente. È stato il primo trauma nei rapporti con l'Occidente. Ma dopo ci arriviamo. Francesco, allora, questo forse è un luogo comune, no? Pensiamo che gli Stati Uniti sappiano a malapena dove sono paesi molto più vicini della Cina, no? Questo magari ha un fondo di verità, ma magari non è proprio così. Però per raccontare un po' dal punto di vista appunto americano, dov'è, cos'è la Cina? Ecco, quando si è formata questa coscienza? Dunque, bisogna fare un bel salto in avanti nel tempo, nel senso che quella condizione di isolamento cinese di cui parlava, o comunque di estraneità della Cina rispetto a quello che avveniva in Europa, alla storia che si faceva in Europa, ha avuto anche poi delle conseguenze, di cui parlava Giorgio, anche delle conseguenze rispetto a dove finiva l'orizzonte degli statunitensi quando nascono gli Stati Uniti. E spesso finiva in Europa o poco lontano da lì, in Africa, perché c'era la tratta degli schiavi. L'Asia era vista come, diciamo, il Pacifico come una parte, diciamo, del loro territorio, del loro giardino di casa. L'Asia, come una regione che poteva essere interessante per ragioni commerciali, ma anche durante la prima età del Novecento, le guerre, le relazioni internazionali, gli Stati Uniti sono intanto piuttosto resti a buttare lo sguardo oltre i loro confini, tant'è che, lo ricorderete, nel ruolo dell'America, in entrambe le guerre c'è sempre inizialmente una certa riluttanza nell'occuparsi di quello che sta avvenendo dall'altra parte del mondo. E quindi poi davvero gli Stati Uniti cominciano, e gli statunitensi, a porsi il problema di riempire di caratteristiche, di aggettivi di conoscenza questa grande casella vuota o quasi vuota nella loro cultura, cioè la Cina che cos'è, chi sono i cinesi, che cosa vogliono, questo paese che tipo di relazioni ha con noi. Ecco, tutto questo parte davvero a livello popolare, non politico, non solo politico, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando nel contesto della Guerra Fredda, gli Stati Uniti capiscono che la Cina è un posto troppo grande e troppo rilevante in quella regione per essere ignorato, che non è possibile incasellarlo davvero nel sistema binario della Guerra Fredda. I rapporti tra la Cina e l'Unione Sovietica sono dei rapporti, diciamo, di collaborazione, se volete, ma non si può certo dire che la Cina facesse parte del blocco sovietico, del patto di Varsavia, di quel tipo di coalizione internazionale, tanto che il vero primo momento in cui l'americano medio, diciamo, la persona statunitense, ripeto, mi piace prenderla più da quel lato che da quello politico, si accorge che c'è un mondo anche interessante, anche potenzialmente utile agli Stati Uniti, arriva quando il presidente statunitense Nixon, con un gesto anche piuttosto clamoroso per l'epoca, siamo nel 1973, se non vado errato, 40 anni fa, 50 anni fa, scusate, visita la Cina. All'epoca Nixon è un presidente non solo molto di destra, molto conservatore, ma anche molto anticinese, anticomunista, anticomunista. La Cina invece è appena passata attraverso la rivoluzione, ha un partito comunista che controlla tutto. Nixon va in Cina e nasce negli Stati Uniti un modo di dire, solo Nixon può andare in Cina, cioè solo un politico con delle credenziali così anticomuniste come Nixon può andare in Cina senza che gli elettori lo accusino di essere morbido con i comunisti, di voler fare dei gesti distensivi nei confronti del comunismo. Nixon ha delle credenziali così rigidamente anticomuniste che può andare lì e intanto ci sono delle immagini, se vi incuriosisce, diciamo meravigliose di questi incontri, dell'arrivo di Nixon in Cina, di questi incontri anche molto cordiali. Sono davvero due, scusate la metafora che diciamo non all'altezza del festival del classico, ma sembra l'incontro tra due alieni di due pianeti diversi che però si guardano con una certa curiosità, anche perché è molto chiaro in quel momento quali sono i rapporti di forza. Gli Stati Uniti sono la superpotenza tra i due, la Cina è un paese poverissimo che sta cercando di uscire da questa lunga fase. Gli attuali anziani cinesi raccontano di aver fatto la fame quando erano ragazzini. Nella biografia, nella formazione di Xi Jinping, su questo Giorgio ne sa molto più di me, l'aver sofferto, l'aver mangiato il pane duro da giovani è un elemento formativo centrale della propria identità e quindi nascono dei rapporti commerciali, militari, scientifici, naturalmente non particolarmente stretti, ma ci si annusa. Gli americani cominciano quindi anche a rendersi conto di quel pezzo di mondo e della sua rilevanza e questo diventa sempre più evidente quando poi, col passare degli anni, dei decenni, la Cina comincia a diventare per gli americani anche un interessante partner sul piano commerciale. sono gli anni in cui la Cina comincia a porre le premesse perché diventi quella che poi sarà definita la fabbrica del mondo. Scusa, aggiungo un'ultimissima cosa, ed è quella una fase interessante da sapere, da tenerne conto oggi, in cui c'è da parte della popolazione americana una certa curiosità nei confronti della Cina e dei rapporti con la Cina. La Cina entra nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, su iniziativa di fatto guidata dalla presidenza degli Stati Uniti, da Bill Clinton, e fa un certo effetto riascoltare oggi quei discorsi perché Clinton dice noi il mondo ha tutto l'interesse a vedere una Cina ricca, una Cina prospera, una Cina con cui avere delle relazioni fruttuose, probabilmente perché pensavano che la Cina sarebbe comunque rimasta in quel ruolo subalterno. Quando poi la Cina invece rialza la testa, Trump vince le elezioni dopo una campagna elettorale nel 2016 in cui ci hanno fatto persino i montaggi su YouTube di tutte le volte che lui diceva la parola Cina. La Cina è stato il suo grande spauracchio con cui ha dato un argomento convincente agli americani per votare per lui. Sì, volevo solo aggiungere che a proposito di Nixon c'è una citazione d'obbligo che è Kissinger, che è ovviamente stato il grande fautore di questo grande riavvicinamento. Ci torniamo dopo, anche perché lo ricordiamo, visto che la notizia è fresca di ieri, della scomparsa di questo grande statista. Però vorrei tornare un attimo al trauma, perché c'è nel libro, una chiave di lettura che ho trovato molto interessante, è questa lettura dell'incompatibilità sino-americana come una sorta di rapporto d'amore non corrisposto. Perché dall'arrivo della famosa nave mercantile imperatrice di Cina, quindi già settiamo, gli America arriva in Cina con una nave che si chiamava imperatrice di Cina, giusto per far capire da subito quali erano gli obiettivi, la Cina rimane affascinata dagli americani. Tanto che, io non lo so dire in cinese, ma insomma la traduzione che riporti tu, la Cina chiama l'America il bel paese, quindi non siamo noi per una volta il bel paese per i cinesi. Ma tutto questo rapporto che nasce con un trauma e continua con una aspirazione al riconoscimento, all'essere pari grado, è un rapporto di continua frustrazione perché è qualcosa a cui l'America si sottrae costantemente. È corretta questa lettura un po' sentimentale, un po' romantica? No, no, beh, del resto la geopolitica è sentimento innanzitutto. Quindi sì, è così, cioè nel corso della storia la Cina, dopo che ha scoperto l'America, è stata puntualmente delusa, aveva un'altissima considerazione degli Stati Uniti. Tra l'altro, la prima volta che la Cina conosce geograficamente parlando l'America, lo fa tramite una mappa disegnata da Matteo Ricci. Cioè l'imperatore chiede al gesuita Matteo Ricci, l'unico, uno dei pochi, a entrare, uno degli stranieri pochissimi, a entrare alla corte dell'imperatore, gli chiede disegnami un planisfero e questo planisfero per la prima volta include le Americhe. E i cinesi cominciano a capire che forse oltre il proprio giardino c'era di più. Considerate che all'epoca nelle carte della Cina non c'erano i confini, perché l'impero cinese per definizione non poteva avere i confini. Quando è che la cartografia cinese introduce i confini? Quando arrivano le potenze straniere che mettono in discussione il legame tra l'imperatore e il cielo e il dominio dell'imperatore su tutto quello che era il creato. Però l'America diventa un punto di riferimento, il termine appunto di bel paese in cinese si dice Mei Guo e entra nel diciamo nel dizionario cinese e ci dice molto ovviamente del tipo di attrazione che aveva la Cina e che ha sviluppato nel corso degli anni. L'ha sviluppata anche prima in realtà della fondazione della Repubblica Popolare, perché quando crolla l'impero cinese, crolla la dinastia Qin, la Cina ovviamente è segnata dalle guerre, parliamo 1911-1912, poi scoppia la prima guerra mondiale. Alla fine della prima guerra mondiale i cinesi si presentano alla conferenza di Versailles per riottenere la penisola dello Shandong, che tra l'altro è quella che ha dato i Natali a Confucio, che ha un ruolo fondamentale nella società cinese. Ma chi lo chiedono alla conferenza di Versailles? Lo chiedono agli americani, chiedono agli americani di far pressione sui giapponesi affinché restituiscono la penisola dello Shandong. Gli americani dicono di no, perché non vogliono compromettere i rapporti col Giappone. Cosa succede? Che nel 1919 scoppiano il 4 maggio in Cina proteste contro non solo il governo dell'epoca della Repubblica di Cina che era appena nata e che doveva trasformare l'impero e quindi una civiltà in una nazione, in uno stato, qualcosa di incredibile da fare e probabilmente ancora qualcosa di incompiuto. Ma protestano anche contro le potenze occidentali e tra i giovani che protestavano c'era anche veramente un giovanissimo Mao ed è un momento determinante perché i cinesi si sentono delusi dagli americani e come risposta vanno in direzione della Russia. Cominciano ad abbracciare il comunismo, ovviamente i russi a braccia aperta accolgono questa posizione cinese e lì cambia la storia della Cina. Probabilmente è lì che l'America ha perso la Cina perché gli americani pensavano di poter veramente inglobare i cinesi nel loro ordine, nel loro sistema internazionale, concetto chiaro a Kissinger. Ma evidentemente la Cina andava in un'altra direzione. Quindi quella è stata la prima vera delusione e ce ne sono state altre. E tu ne parli molto bene nel libro, insomma ci sono vari episodi. Una cosa che volevo raccontare come aneddoto è legato a quello che diceva Francesco prima a proposito dei rapporti militari ed è qualcosa di attuale. Molti pensano, non so se avete visto appunto, ovviamente Biden e Xi Jinping si sono incontrati poco fa e dicevano che era il sesto o settimo viaggio di Xi Jinping negli Stati Uniti. In realtà non è vero, in realtà era l'ottavo viaggio. Il primo viaggio che Xi Jinping ha condotto negli Stati Uniti è stato nel 1980 al seguito dell'allora ministro della difesa, che era cinese Gambiao, che era andato negli Stati Uniti per allacciare i rapporti militari con gli Stati Uniti. Cosa ha fatto Gambiao e Xi Jinping, che era il suo segretario personale, quindi segretario vuol dire colui che tiene i segreti del ministro della difesa? Prima è stato invitato sulla portaerei Kitty Hawk, quindi a guardare, a osservare la magnificenza della tecnologia militare americana e poi è stato invitato alla Casa Bianca da Carter, credo fosse all'epoca, a guardare nel salone della Casa Bianca Star Wars, l'impero colpisce ancora. Messaggio chiarissimo, ancora una volta. Però l'impero colpisce ancora e vincono i cattivi? Eh? L'impero colpisce ancora e vincono i cattivi? Però l'impero è l'America. Ah certo. Il concetto è quello. No, a parte gli scherzi, però erano i buoni. Esatto. No, però il concetto era che lì, in realtà, in Star Wars, la competizione tra, se volendo leggere tra le righe, tra l'America e l'Unione Sovietica, ovviamente. Però era un messaggio che l'America mandava anche alla Cina della propria capacità, del proprio soft power, della propria tecnologia. E immaginatevi che all'epoca nessuno lo sapeva, lì, in quelle stanze, ma c'era il futuro presidente della Cina, quello che sarebbe diventato il terzo leader più potente dopo Mao e Deng Xiaoping. Quindi questo per attualizzare un po' quello che stiamo dicendo. Ma rimanendo sulla parentesi pop, c'è un altro prodotto commerciale molto famoso che è per la Cina, che ha affascinato i cinesi, House of Cards. Tu lo citi nel tuo libro. Questa serie è incentrata su questa figura di questi maneggi incredibili di potere all'ombra del Campidoglio, poi della Casa Bianca, e che i cinesi, sappiamo, hanno divorato con molta passione proprio in un momento in cui ha cominciato a farsi strada nella coscienza cinese l'idea che l'America fosse in crisi. Quindi qualcosa di molto recente questo. Sì, è vero. Innanzitutto questo denota l'attrazione cinese per il soft power americano, per la cinematografia americana. E poi si abbina anche alla passione che i cinesi storicamente hanno per i romanzi che raccontano le lotte di potere, ovviamente quelle interne alla corte dell'imperatore, poi all'interno del partito, qualcosa tra l'altro di estremamente attuale, se avete visto un po' che fine hanno fatto ultimamente il ministro della difesa e il ministro degli esteri cinesi, che sono stati, diciamo, epurati recentemente. E quindi questa è una combinazione di fattori, cioè un'attrazione per gli intrighi americani, un'attrazione per gli intrighi di palazzo cinesi, e poi la convinzione che si era effettivamente fatta strada nei primi anni 2000 in Cina, secondo cui l'America era in declino, perché la Cina vedeva, ha visto prima la crisi finanziaria, poi ha visto quello che è successo con le torri gemelle, quindi gli attentati, eccetera, eccetera, e nei circoli strategici cinesi si parlava dell'apertura di una finestra di opportunità strategica, cioè si chiedevano se fosse giunto il momento per la Cina di iniziare ad alzare la testa, è giunto il momento di accelerare il percorso di sviluppo tecnologico e militare per veramente raggiungere il punto di riferimento, cioè agli Stati Uniti, per poi magari un giorno superarlo. Ecco Francesco, ma dagli Stati Uniti, dalla parte dei Stati Uniti, c'è questa consapevolezza di sembrare più deboli? Beh sì, in parte perché quei segnali, di cui parlava Giorgio, che i cinesi osservano e vedono una debolezza statunitense, ovviamente li percepiscono gli statunitensi in prima istanza, nel senso che gli americani escono dalla guerra fredda convinti che quella sia stata l'ultima vittoria, la vittoria diciamo conclusiva, qualcuno parlò di fine della storia, il mondo per poco tempo, perché diciamo dagli anni 90 forse al 2001, fu effettivamente un mondo unipolare, in cui c'era una sola superpotenza e la lotta diciamo che aveva segnato la seconda metà del Novecento era finita, poi però abbiamo l'11 settembre, abbiamo le guerre fallimentari in Afghanistan e in Iraq, abbiamo la crisi economica del 2008, abbiamo la crisi delle istituzioni statunitensi, abbiamo la vittoria di Donald Trump alle elezioni e tutto quello che ha comportato, era molto evidente che gli Stati Uniti attraversavano e attraversano ancora in parte un momento di grande difficoltà, non era immaginario e quella finestra di opportunità d'altra parte era raccontata anche da noi stessi occidentali che a un certo punto abbiamo cominciato a considerare il declino degli Stati Uniti quasi un genere letterario, giornalistico, ci siamo cimentati molto nel esplorarlo, nel raccontarlo, si calcolava quando sarebbe arrivato l'inevitabile sorpasso dell'economia cinese su quella statunitense e tutti erano d'accordo sul fatto che sarebbe arrivato, potevamo soltanto discutere del quando, in quale anno e tutto questo gli americani non solo l'hanno percepito come ovviamente problematico, ma l'hanno percepito anche come una conseguenza di un loro errore. Prima vi raccontavo che la Cina entra nel WTO nel 2001, questo gli permette, apre alla Cina e alle aziende cinesi una grande facilità di commercio internazionale con tutto il mondo, fa sì che la Cina diventi davvero la fabbrica del mondo e quindi è un matrimonio di interesse che vede entrambe le potenze diciamo godere di questi vantaggi. Gli Stati Uniti cominciano a comprare dalla Cina merci a basso costo e anzi decidono che a quel punto possono fare un ulteriore passo nell'evoluzione della loro economia e diventare un'economia sempre più basata sui servizi e sempre meno sull'industria, perché tanto le industrie può utilizzare quelle cinesi che costano molto di meno. La Cina fa uscire dalla povertà centinaia di milioni di persone in questo modo. Chiaramente le fabbriche cinesi non erano, non sono quasi nemmeno adesso, quindi non erano mica dei luoghi diciamo particolarmente a prova di statuto dei lavoratori, diciamo, però in Cina c'era letteralmente la fame e la Cina comincia a diventare quello che oggi in termini di ricchezza, di potenza, di influenza, di centralità commerciale durante quegli anni lo fa anche perché, diciamo, da un certo punto di vista c'era una grande volontà politica americana di coinvolgere la Cina anche per disinnescare la potenziale minaccia che poteva essere una Cina povera, una Cina in difficoltà, una Cina comunista davvero, perché poi sappiamo che il comunismo cinese è un comunismo che riconosce il mercato e un sacco di cose che non sono sovietiche o staliniste o leniniste, ma tutto questo viene vissuto con un qualche malessere dagli americani perché la Cina diceva a fronte di questa volontà politica americana gli americani dicono comincia a fare cutting corners, cioè comincia a prendere un po' di scorciatoie e gli americani si irrigidiscono molto perché la Cina manipola la valuta per avere qualche vantaggio nelle esportazioni. È piuttosto disinvolta anche per ragioni culturali sul rispetto della proprietà intellettuale. Questa è una cosa che Giada Messetti racconta spesso e allora io l'ho imparata da lei e ve la racconto, ma lei la racconta molto meglio di me. Il nostro concetto di copiare come qualcosa di disdicevole, che non si fa, comunque c'è un originale e c'è soltanto un originale, le altre copie valgono di meno, è un concetto culturalmente molto nostro. L'accezione negativa alla copia in Cina culturalmente non esiste. Questo da una parte li porta con una certa ingenuità, dall'altra parte naturalmente si rendevano conto di quello che facevano a trattare la proprietà intellettuale occidentale, statunitense, i brevetti, con una certa disinvoltura. La comunità internazionale a lungo chiude un occhio, anche perché comunque quello che sta accadendo in Cina porta vantaggi a tutti, finché la deindustrializzazione, le crisi economiche non fanno dire a molti americani forse la Cina ci ha fregati e forse noi volevamo aiutarla, l'abbiamo effettivamente aiutata e ora questi sono diventati più ricchi di noi, più moderni di noi, diventeranno la vera superpotenza e questo insieme a tutte le questioni di ostilità verso il diverso e di scetticismo verso chi ha un colore della pelle diverso dal tuo, una lingua diversa dalla tua, crea quel contesto per cui poi Trump brandisce molto l'odio anticinese. Durante la pandemia dirà il virus cinese. Insomma c'è stato un momento di, non so se si può parlare anche in questo caso, di innamoramento tradito, ma di crollo della fiducia reciproca anche tra questi due popoli, oltre che tra i due paesi. Molto interessante, rimanendo sul piano più, come dire, anche uno strato di psicanalitico, no? Cioè, come dicevi prima, la geopolitica e il sentimento, c'è un altro tipo di sentimento che la Cina non riesce a suscitare in chi la guarda o in chi la conosce, gioco forza più superficialmente di chi è nato lì e la conosce in maniera molto profonda, ma l'empatia. L'empatia che è un ruolo importantissimo nella costruzione del soft power, che agli americani è venuto benissimo, no? Cioè la propria affermazione ideologica, a partire da alcuni concetti fondamentali che riguardano la libertà, l'individuo, la democrazia, l'affermazione del seno, per la Cina sembra un percorso non soltanto in salita, quasi impossibile, un angolo cieco totale. La creazione dell'empatia che si collega al soft power, che manca in questo momento, ma manca anche, da quello che racconti tu nel libro, manca anche nei cosiddetti stati alleati, che in verità stanno vicini alla Cina, ma poi alla fine sono più contigui, o più, diciamo, loro aspirazioni sono rivolte comunque agli Stati Uniti. È così, no? C'è questa empatia di mezzo. Sì, ma diciamo che la Cina non ha alleati, cioè poi bisognerebbe vedere che cosa si intende per alleati in realtà. Alleati potrebbe voler dire che io sono disposto a morire per te e viceversa. Se fosse così la Cina non ha alleati e questo però è un segno di quello che dici tu, cioè fatica a catalizzare consenso e attrazione intellettuale, culturale, di paesi, quindi di collettività altrui, al punto da creare un rapporto veramente familiare, parentale. Eppure avrebbe delle carte, se vogliamo, dal punto di vista culturale per proiettarsi, se non altro, nel proprio giardino di casa, perché comunque potrebbe fare affidamento sulla cultura confuciana, sulla filosofia confuciana, potrebbe fare affidamento sul buddismo, tutti elementi che sono presenti molto forti in Cina, però non sono quelli che il partito comunista vuole usare come elementi di riferimento, perché teme che poi possano rivoltarsi contro la leadership del partito stesso. Non tanto la filosofia confuciana, ma per esempio il buddismo ovviamente è sempre un elemento piuttosto sensibile in Cina. Il soft power, il problema è che la Cina in realtà ha un rapporto con il soft power abbastanza complicato, innanzitutto proprio come concetto, perché è un concetto che non nasce in Cina, il concetto di soft power, cioè la capacità di spingere qualcuno a fare qualcosa per me senza che io gli imponga la forza nei suoi confronti. Questo concetto nasce negli Stati Uniti, con Joseph Nye, il soft power e il suo libro Bound to Lead, che tra l'altro i cinesi cominciano a studiare negli anni 90, perché vedono il collasso dell'Unione Sovietica, capiscono che non vogliono fare quella fine, cercano di studiare la forza, gli elementi di forza dell'impero americano e quindi il soft power e trovano, e devono inventarsi un nome, cioè il fatto che non esista in una lingua, non esista il nome per definire qualcosa, vuol dire che si fa fatica anche a sviluppare quel concetto. Quindi trovano varie formule, per esempio Run Shirley, che vuol dire potere morbido, no? E dibattono su questo, dibattono su come attuarlo, su come utilizzarlo, se può, deve essere usato insieme all'hard power, quindi all'uso della forza oppure no, e così via. Però, insomma, il problema è che non riescono a, appunto, a combinare, ancora oggi faticano a trovare un modo per combinare l'uso della forza con il soft power. L'esempio più importante in questo senso è Taiwan, perché Taiwan ci sono, cioè innanzitutto Taiwan è abitata da un'etnia che è Han, sebbene l'etnia Han sia un costrutto artificioso, comunque sono Han quanto sono i cinesi della Cina continentale, parlano cinese mandarino, hanno una storia ovviamente conflittuale che li unisce alla terraferma, ma insomma dal punto di vista dell'identitario culturale ci sono tanti elementi che consentirebbero a Pechino di cercare di attrarre verso l'esempio di Taiwan, eppure non ci riescono. Non ci riescono perché devono riuscire a, diciamo, bilanciare il bisogno di attrarre gli altri con il perseguimento dei propri obiettivi strategici, questo è il vero problema. E l'obiettivo strategico più importante oggi per la Cina è prendere Taiwan in un modo o nell'altro, quindi anche con l'uso della forza, perché si lega alla competizione con l'America, cioè dominare i mari cinesi, accedere all'oceano pacifico per diventare una potenza marittima e competere con l'America. Quindi anche se i taiwanesi non lo vogliono, questo percorso può portare la Cina verso un uso della forza più muscolare, e il problema è come si fa a combinare l'uso della forza muscolare con invece un'idea di sé, di uno sviluppo pacifico, armonioso, che porta beneficio a tutti? Ecco, il problema è questo, cioè legittimare l'uso della forza. I cinesi non ci riescono, e qui chiudo sul tema che è nella carta alle mie spalle. Ancora una volta c'è un collegamento con il soft power americano, in Cina si parla di sogno cinese, che è un riferimento all'American dream, ma c'è una differenza sostanziale, che l'American dream è qualcosa che idealmente è rivolto a tutti, cioè chiunque può abbracciare questo concetto basato sullo sviluppo, sulla crescita personale, individuale, crescita economica, libertà, più che democrazia direi libertà, di fare quello che ci pare, mentre invece il sogno cinese è il sogno dei cinesi, il sogno della Cina, che non è questo, non è quello americano, ma significa riportare, e qui ritorno al quello che dicevo all'inizio, riportare la Cina al centro del mondo, cioè restituirgli un ruolo di primo livello sanando quelle ferite determinate dalle invasioni occidentali e giapponesi subite nel secolo che è intercorso tra le guerre dell'oppio e la fondazione della Repubblica Popolare. Quindi è da tutto questo problema strategico che si determina una incapacità cinese di sviluppare un soft power efficace. Eppure, lo impariamo leggendo il tuo libro, la presenza di cinesi negli Stati Uniti è costante, ma cinesi che vanno a studiare negli Stati Uniti. Io ho letto 700 mila… Inclusa la figlia di Xi Jinping, tra l'altro. Questo che impatto ha poi, da un punto di vista della permeabilità culturale, cioè come se la Cina, anche chi è più disposto a ricepire i germi di questo soft power, in un certo senso però la radice fosse sempre prevalente rispetto a quello che arriva fuori. Certo, quello intanto è un grande elemento di forza del soft power americano. Le università, nel caso della Cina naturalmente, ma nel caso anche del resto del mondo, persone giovani e ambiziose, talentuose di ogni parte del mondo sognano, in qualche caso riescono, di andare a studiare a Berkeley, a Stanford, ad Harvard, ad Yale, negli Stati Uniti. Con l'idea poi, in molti casi, di tornare nel proprio paese dopo. Non è una scelta di andare e diventare americani o trasferirsi negli Stati Uniti. Per cui, anche rispetto allo scambio che c'è, naturalmente c'è, ma in una parte significativa poi dei casi queste persone non pensano diventano americano o restano qui. Sanno che quelle competenze lì devono metterle poi a frutto nel proprio paese per la forza, per la fortuna del proprio paese. In tutto questo, quando si parla di soft power e di empatia, c'è naturalmente appunto una grandissima forza degli Stati Uniti da tempo, da moltissimo tempo a questa parte, che possiamo raccontare dalla forza dei suoi prodotti culturali. Le università, l'abbiamo appena detto, il turismo e la facilità del turismo, la lingua, le relazioni che gli Stati Uniti hanno avuto modo di costruire nel corso dei meno di tre secoli da cui esistono, ma soprattutto le relazioni che abbiamo inevitabilmente se consideriamo che in America, a parte gli eredi dei nativi americani cosiddetti, per il resto le persone sono tutte praticamente, diciamo, eredi di persone arrivate dall'Europa o dall'Africa. E quindi ci sono dei legami culturali storici fortissimi. Io sono andato a Filadelfia la prima volta nella vita, ho affittato un appartamento su Airbnb a Filadelfia e nella porta accanto alla mia c'era un CAF della CISL, per dire, diciamo, che non è solo la pizza, quella c'è naturalmente, l'immigrazione. C'era un ufficio CAF? Sì, 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 c'era un sindacato, un patronato. La quantità di italiani, tedeschi, ma Trump è di origini tedesche, Obama è mezzo keniano, Biden è mezzo irlandese, ci sono dei legami storici che si raccontano di famiglia in famiglia per cui poi c'è una forza quando gli americani parlano agli europei diversa, quando gli americani parlano alla Cina e viceversa. Questo accade anche non soltanto per una volontà di potenza americana, perché gli americani ci spendono un sacco di soldi, perché figuriamoci se poi la Cina non ha fatto investimenti nelle università, le città cinesi sono oggi interessantissime, è stato persino sorprendente ed eloquente secondo me che abbiamo scoperto dell'esistenza di Wuhan a causa della pandemia. Quella è una città da più di 10 milioni di persone, è una città rilevantissima in Cina, ma nessuno sapeva nemmeno che esisteva, nessuno no naturalmente, ma pochi di noi, figuriamoci sapere che cosa c'è a Wuhan. Tutto questo accade anche perché la Cina nel suo rapporto con la cultura e nel suo rapporto con l'esterno tende a tenere il guinzaglio piuttosto corto. È molto difficile avere una produzione culturale ricca, affascinante, che crei delle nuove tendenze quando hai la censura, quando la creatività degli artisti ovviamente deve fare i conti con quello che il partito ti permette o non ti permette di fare. È molto difficile proiettarsi verso l'esterno e accogliere il prossimo, quando la Cina per esempio viene da quasi due anni di frontiere chiuse. Entrare in Cina per chi non è cinese è stato per lungo tempo complicato, per qualche periodo impossibile e quindi immaginiamo la giovane ragazza italiana che pensa voglio studiare in Cina perché magari è affascinato da quel paese, non lo poteva fare nemmeno volendolo e in tutto questo se ci mettiamo sopra le varie propagande dei paesi e dei soggetti poi più nazionalisti, più ostili dentro questi paesi, come queste propagande e queste ostilità sono esacerbate dagli anni difficili che abbiamo vissuto, ecco oggi il soft power americano è sì più efficace di quello cinese, quello cinese quasi non c'è davvero se non per alcune cose, la cucina per esempio funziona e molte altre, ma c'è uno scetticismo e un'ostilità che è anche secondo me rafforzato dal fatto che la Cina fa molta fatica a raccontarsi a noi e noi probabilmente non siamo così interessati ad ascoltare, anche questo va detto. O impone un ripensamento di alcuni modelli di pensiero, modelli culturali talmente profondo che non si riesce a fare avendo pochi elementi. Prima hai citato l'impero romano, c'è un'altra istituzione con diciamo più a territoriale in un certo senso ma ugualmente forte che affascina molto i cinesi che è la chiesa, è vero. Tu ne parli in un passaggio del libro, il rapporto con Papa Francesco in particolare è un rapporto molto interessante, vogliamo dare una suggestione giusto per far nascere un po' la curiosità anche su questo tema? Sì, perché si lega al tema del soft power. L'ecumenismo li unisce, la Cina e la chiesa cattolica. Sì, allora dalla prospettiva della chiesa la scelta, come sappiate, di sviluppare un accordo riservato con la Cina per concordare la nomina dei vescovi è una scelta geopolitica perché comunque il Vaticano è un attore geopolitico con una sua proiezione verso l'esterno ed è e rappresenta il tentativo della chiesa di accrescere la propria attività, sicuramente di accrescere la propria attività pastorale in Asia, in tutta l'Asia e quindi per farlo bisogna partire dalla potenza di riferimento e c'è anche però un tentativo più, ancora più grande che è quello di avere un ruolo, tentare di avere un ruolo anche nel triangolo tra Stati Uniti, Russia e Cina. Per farlo ovviamente bisogna diventare un interlocutore della Cina e tenete presente che per sviluppare questo accordo di fatto la chiesa ha rinunciato a un pezzettino della propria sovranità perché teoricamente dovrebbe essere il papa a nominare i vescovi, punto. Invece in questo caso si mette d'accordo con il governo cinese che appunto con la chiesa ha tutto un rapporto piuttosto conflittuale, ricordate sempre che la Santa Sede è uno dei pochi attori al mondo che non riconosce diplomaticamente la Repubblica Popolare Cinese, riconosce invece ancora Taiwan. Sono proprio veramente una decina di stati che riconoscono Taiwan come stato a sua volta. Quindi questo dalla parte della chiesa. Nel libro affronto l'altro elemento, cioè l'attrazione ancora una volta della Cina per il soft power della Santa Sede. Cioè studiare, questo è un elemento chiave che sottolineo, studiare la cultura occidentale è fondamentale per i cinesi in questo momento. Questo significa studiare la storia della chiesa, studiare quella dell'impero romano e ovviamente anche per capire l'America e capire l'Occidente. Ovviamente non è immediato questo passaggio, perché l'America ha una sua storia, ha anche un suo modo di vedere la storia dell'Occidente a sua volta. Però è quello il tentativo che cerca di fare la Cina e vede poi nella chiesa, vedeva perlomeno fino a qualche tempo fa, anche magari un potenziale interlocutore, un mediatore nei rapporti con gli Stati Uniti. Ora la situazione chiaramente è degenerata e insomma è inutile andare tanto per il sottile. Cina e Stati Uniti stanno attraversando una rotta di collisione, sono in un percorso che li può portare al conflitto. Però è fondamentale in un conflitto, e questo si lega anche penso al tema di questo evento, conoscere l'altro. Cioè l'unico modo per evitare il conflitto, o quantomeno avere la meglio nel conflitto, è sapere cosa pensa l'altro. Per sapere cosa pensa l'altro dobbiamo anche provare a metterci nei panni dell'altro. Quindi questo quando dicevo la geopolitica è sentimento, cioè non è pura razionalità, bisogna cercare di capire quali sono le passioni dell'altro, le paure e i timori. E la Cina cerca di farlo nei nostri confronti. Noi dobbiamo tentare di farlo ovviamente nei confronti dei cinesi. Ecco, diciamo questa è l'ultima parte, poi facciamo un piccolo sezione di domande, preparatevi se avete qualcosa da chiedere, vi chiedo domande, non prolusioni personali, domande. L'ultimo pezzo, abbiamo iniziato parlando della vecchia via della seta, parliamo adesso di Belt and Road, parliamo di che cosa è successo sostanzialmente dal 2019 in avanti, perché c'è stato un cambiamento diciamo che è iniziato pre-Covid e poi è deflagrato. Quindi quelli erano gli obiettivi della Cina, sostanzialmente tre, i pilastri su cui si basa la nuova via della seta, Belt and Road, e poi che cosa è successo, la chiusura poi del mondo occidentale alla fine nei confronti della Cina. Sì, Belt and Road è nata come un progetto geopolitico a tutti gli effetti, scambiato anche in Italia semplicemente per un'iniziativa economica. Sì, è vero, era ed è un progetto fatto di investimenti infrastrutturali, ma anche accordi economici, accordi culturali, scambio di informazioni, sviluppo di tecnologia da parte cinese in territori altrui. E questa rielaborazione che vedete è una rielaborazione che abbiamo sviluppato a Limes, prendendo come base originale proprio una carta che abbiamo prelevato, posso dirlo con un po' d'orgoglio, il direttore Lucio Caracciolo ed io a Pechino qualche anno fa. e il problema è che per la Cina, e questo era chiaro anche agli americani, per la Cina rappresentava un modo per espandere la propria influenza lontano dai confini. Cosa è successo? È successo che tanti paesi, magari che avevano bisogno di infrastrutture, hanno accolto quegli investimenti, ma non tutti ovviamente sono andati a buon fine, a causa sia di ostacoli di natura eminentemente interna, perché pensate a paesi come il Pakistan o l'Afghanistan stesso, paesi dove ci sono scontri, c'è una fragilità interna estremamente forte e questa fragilità sommata alla repulsione nei confronti della presenza cinese ha fatto unafragare questi progetti. In Occidente la situazione è stata diversa perché pochissimi paesi hanno aderito alle vie della seta, Italia inclusa, ma se guardate le principali potenze europee, Francia, Germania, Regno Unito, non hanno aderito a quel progetto, perché innanzitutto avevano dei rapporti molto forti con la Cina dal punto di vista economico già prima, ma poi perché sapevano che avrebbe significato sposare il progetto geopolitico del rivale dell'America. In Italia questa cosa è stata sottovalutata, siamo finiti così. Però poi c'è arrivata la mano dura degli Stati Uniti a dire cosa stava facendo. Sì, fino a un certo punto, sai, questo è un episodio molto interessante della nostra storia, ma poi magari non so se Giorgio vorrà aggiungere qualcosa, perché l'Italia firma il memorandum per la via della seta ed è il primo paese europeo, credo l'unico paese europeo a firmare un memorandum di quel tipo, correggimi se sbaglio. No, ce ne sono altri, ma minori, cioè la Grecia, l'Ungheria. E lo fa durante un momento storico molto preciso. Negli Stati Uniti c'è il presidente Trump e in Italia c'è il governo gialloverde, governo inedito, ve lo ricorderete, nasce dopo quattro mesi di consultazioni e tentativi, un'alleanza di cui non si era parlato prima delle elezioni tra due partiti avversari come la Lega e i Cinque Stelle. E quindi avviene un momento, secondo me, anche piuttosto irripetibile. Gli Stati Uniti hanno un presidente che maltratta apertamente i propri alleati. Trump non maltratta soltanto la Cina perché ne parla male, ma Trump maltratta l'Europa, ci mette i dazzi, maltratta l'Italia, maltratta la Francia, maltratta i suoi alleati. È il momento in cui il presidente Macron dice la Nato è cerebralmente morta, non esiste più. Si pensa che gli americani possano addirittura ritirarsi dalla Nato e quindi la Nato chiudere, in sostanza, se Trump rivince quelle elezioni. Insomma, in quel momento il guinsaglio degli Stati Uniti è piuttosto lungo. I loro alleati sono abbastanza liberi da andare dove gli pare. Il governo italiano è un governo piuttosto estemporaneo, che non aveva chissà quale visione politica, era nato da un'alleanza fatta il contratto, vi ricordate? Tra due partiti che hanno, nelle loro identità, una certa, diciamo, anima anti-americana, anti-occidentale, la Lega da una parte per certi motivi, i Cinque Stelle da una parte dall'altra, viene firmato questo memorandum che ha un valore quasi solamente politico, nel senso che non è che l'Italia da quel momento lì comincia a fare grandi affari con la Cina o la Cina comincia a fare grandi investimenti in Italia. Paesi che non firmano un memorandum come quello, come la Germania, come la Francia, avevano e hanno continuato ad avere molti più affari con la Cina rispetto a quelli italiani. Non lo firmano appunto perché pensano che sia meglio evitare di comprometterci a questo punto, l'Italia lo fa in modo anche abbastanza spericolato, oggi è una grana della Presidente Meloni perché deve sfilarsi, ma se può farlo senza grandi conseguenze, proprio perché questo accordo aveva soprattutto un senso politico, Xi Jinping non va all'estero così di frequente, se arriva a fare la foto, diciamo, con Di Maio e la maglia della nazionale, lo fa perché quello fu un gran colpo per la propaganda cinese, anche rispetto alle ambizioni che dichiarava con quel progetto, che oggi mi sembra però soffrire un po' anche il momento cinese complicato. È così questo? Sì, tra l'altro voglio ricordare che in quell'occasione quando Xi Jinping è venuto a Roma, poi dopo è andato a Palermo e noi l'abbiamo presa alla leggera. Però la questione delle arance rosse che diceva Di Maio. Sì, noi l'abbiamo presa alla leggera, cioè va a Palermo, sembra che Xi Jinping va a Palermo per turismo. Arancina, diciamo. No, non è così. Poteva essere un omaggio simbolico a Mattarella, perché Mattarella era andato nella città natale della famiglia di Xi Jinping, che non è la città dove lui è nato, perché lui è nato a Pechino, ma la città della famiglia. Ma in realtà c'era il proposito strategico di andare in un luogo che ha una rilevanza strategica, cioè la Sicilia. Cioè una delle cose che voleva fare la Cina era investire in Sicilia, ma non perché la Sicilia è bella, che sicuramente è bella e ci piace, ma perché la Cina sa benissimo quello che sa anche l'America, che l'Italia ha un ruolo strategico nel Mar Mediterraneo, come punto di contatto tra l'Europa e l'Africa. E sapeva che investire a Catania, a Palermo, voleva dire avere dei punti di riferimento in prossimità dell'Africa, dove la Cina è molto presente, ma anche in prossimità di strutture militari dell'America e della NATO. Vedi la base di Sigonella da cui ogni tanto si levano i droni che vanno pure in Ucraina. Quindi questo solo per dire che dovremmo avere un po' più consapevolezza di chi siamo, di quanto contiamo, di quanto conta il nostro paese agli occhi degli altri. Sul naufragio delle vie della seta c'è un evidente ridimensionamento delle attività. Lo slogan è adesso piccolo ma bello, credo, una roba del genere che mi sembrava inquietante. Anche sul marketing dici possono fare dei passi avanti. Però il concetto è che vogliono ridimensionare gli investimenti perché la Cina in questo periodo ha anche scontato un rallentamento economico, ha tanti problemi interni dal punto di vista sociale e poi sta riscontrando un'opposizione da parte occidentale, da parte anche di alcuni paesi, per esempio in Africa, ha un aumento della presenza anche di natura militare. L'insieme di queste cose e il bisogno di concentrarsi su Taiwan potrebbero limitare la portata delle vie della seta e poi anche il possibile ritiro dell'Italia potrebbe avere un impatto sul soft power cinese. Questo dobbiamo tenerne conto. Allora, abbiamo toccato, insomma, mi sembra, vari argomenti. Volevo sapere se dal pubblico c'è qualcuno che ha qualche domanda. In fondo vedo una mano che si agita e possiamo portare. Arriva in mano. Vabbè. No, no, arriva, arriva, arriva. Così la sentono tutti. Allora, tanto la presento perché è una giornalista, Margherita Costa, lavora alla sette, quindi... Sì, vabbè, ma la mia domanda è molto meno prestigiosa della presentazione che mi hai fatto. Sono un'appassionata di geografia e ho visto questa mappa incredibile, questo planisfero cinocentrico, che penso sia una produzione di cuscito. Me ne parla? Che mappa è? Grazie. Sì, no, non l'ho fatta io. Allora, questa carta è di Hao Xiaoguan, credo, che era un cartografo cinese che l'ha prodotta all'inizio, soprattutto per le forze armate e per il governo. E poi è stata diffusa a livello anche nazionale e ora è famosa in tutto il mondo, la trovate un po' su internet liberamente. È una carta... Allora, innanzitutto, ovviamente, come lei sa, le carte geografiche non sono mai oggettive, rappresentano sempre un punto di vista, rappresentano sempre una prospettiva. Qui ha maggior ragione. Ed è un modo di pensare il mondo in maniera diversa, è quello che dicevo prima, cioè il fatto che la Cina vuole sviluppare un proprio soft power, sviluppare dei propri... porsi al centro del mondo, geograficamente parlando anche. Quindi vedete che c'è il massiccio eurasiatico al centro della carta, la Cina, che è la base del massiccio eurasiatico, circondato dagli oceani, e qui c'è un accenno alle ambizioni marittime della Repubblica Popolare, che non è ancora una potenza marittima. E la cosa interessante è che le Americhe sono marginalizzate nella parte superiore della carta, no? Quindi quasi a escludere gli Stati Uniti. Esatto, schiacciate. Il Giappone è invisibile, il massiccio eurasiatico è praticamente di dimensioni pari all'Africa, che è una meta di destinazione della Cina, e questa carta è diventata famosa nei circoli strategici cinesi, quindi pensate quanto può contare. Altre domande? Oppure vuoi aggiungere qualcosa? No, sulla... Allora, se non ci sono altre domande, curiosità, vuol dire che abbiamo, insomma, raccontato in maniera... Eccola una mano. Due. Allora, facciamo prima le due domande, poi così rispondete. Pietro, c'è anche una domanda qua, poi. Non l'ho visto qua. La ragazza lì in fondo. Grazie. Io mi chiedevo... Abbiamo parlato di tutte le debolezze dell'Occidente, e si è parlato della Cina in maniera un po' unitaria, e solo alla fine si è fatto accenno appunto delle debolezze interne della Cina, e mi chiedevo quanto l'idea di appunto della censura di un partito unico sia stata... abbia contribuito appunto all'ascesa della Cina, e quanto però possa essere mantenuta questa idea così autoritaria, e se invece si apre così tanto all'Occidente, non so, un'idea più democratica, quanto potrebbe influire sulla grandezza della Cina? Vuoi rispondere subito? Sentiamo anche l'altra domanda, così... Quando parliamo di Cina e di espansione cinese, la Cina non ha neanche una base militare al di fuori dei suoi confini. Quando parliamo di America e di impero americano, l'America non so quanti migliaia di base ha, tantissime, tra cui 120 in Italia e 20 segrete. Allora, c'è questa differenza sostanziale di espansione, una militare e di potenza militare, e l'altra economica. Allora, se arrivano a uno scontro, è chiaro che prevale quella militare, nella storia ha sempre vinto la spada, non so, rispetto ad altre cose. Quindi, questo conflitto è un conflitto economico o altro, o militare, perché tra le due... Abbiamo capito la domanda. Va bene, ok, solo per dare tempo di rispondere. Allora, prima sulla coesione interna. Sulla coesione interna abbiamo accennato, è vero, solo alla fine... Ecco, questo è importante. La Cina non ha ancora completato, a mio giudizio, il processo di formazione dell'identità nazionale. Cioè, esiste un nucleo geopolitico composto dalla maggioranza Han, che è quello che poi vedete nella carta in rosso fuoco, se vogliamo, lì abita la maggioranza Han. Però esistono anche delle minoranze etniche piuttosto grandi, quelle degli Uyghuri, dei Tibetani, della Mongolia interna, che non possono definirsi assimilati. Cioè, non sono in tutto e per tutto assimilati al canone Han, quindi alla lingua al mandarino, alla cultura cinese. Cioè, un Uyghur è più simile a un abitante dell'Asia centrale, per intenderci. E soprattutto, la cosa fondamentale per Pechino è che queste minoranze diventino fedeli al Partito Comunista, cosa che ancora non è sicura al 100%, e ce lo dimostrano gli attentati avvenuti nel Xinjiang qualche anno fa, e che poi hanno determinato una campagna antiterrorismo e di repressione veramente brutale. Poi c'è il tema Hong Kong, appunto, che è in fase di assimilazione, tramite un'opera pedagogica estremamente dura, che serve a incardinare la storia di Hong Kong e quella della Repubblica Popolare, a far dimenticare agli hongkonghesi che comunque è una regione che ha un'autonomia che nessun'altra regione ha avuto in Cina nel corso della storia. Taiwan non è ancora, nell'idea cinese parlo, ovviamente non è ancora integrata, quindi è un processo che non è compiuto e la paura della Cina è l'implosione, il collasso. E questo spinge la leadership cinese a mettere da parte un processo di democratizzazione, soprattutto perché la situazione economica non è stabile all'interno, perché è vero che la Cina è cresciuta economicamente, ma è ricca soprattutto sulla costa e non nell'entroterra o nelle campagne, ci sono tantissimi problemi sociali. Quindi la paura dell'implosione non consente di rinunciare alla leadership del partito comunista. La dinastia, per dire, semplificando molto, la dinastia rossa rimpiazza le dinastie del passato. E poi, secondo me, è una cosa importante. Noi non dobbiamo pensare che i nostri canoni, il nostro concetto di democrazia sia automaticamente applicabile in Cina, perché hanno una cultura estremamente diversa dalla nostra e si potrebbe fare tutto un discorso su come è stato diffuso il termine democrazia in Cina. Ha subito sempre un processo di assorbimento molto faticoso. Però non c'è dubbio che sicuramente qualcuno vuole più libertà, vuole più democrazia in Cina ed è stato evidente anche durante l'epidemia di Covid, quando nelle straie di Shanghai chiedevano maggiore libertà e protestavano anche contro Xi Jinping, perché erano stufi delle restrizioni. Quindi è un problema. Per quanto riguarda la seconda domanda... Sì, facciamo prima un passaggio con Francesco sulla seconda domanda, perché è un po' fantapolitica. Cioè, questa ipotetica guerra fra Cina e gli Stati Uniti, come va? E quanto è più probabile se vince Trump? Allora, nessuno ha la sfera di cristallo, naturalmente, altrimenti sarei al centro scommesse, diciamo, non qui a parlarvi di Stati Uniti e Cina. È ricchissimo, magari. Ovviamente, ma una cosa che possiamo dire con una certa sicurezza, diciamo, conoscendo anche il momento che attraversano questi due paesi, non hanno nessuna intenzione di fare la guerra. C'è una seconda parte, diciamo, a questa affermazione, ma partiamo da questa, perché è importante tenerla ferma. La Cina, storicamente, culturalmente, non è abituata nemmeno all'idea di risolvere una questione con la forza. Pensa che la guerra sia imprevedibile, sia destabilizzante, crea troppi imprevisti e non c'è niente, diciamo, di più lontano dalla mentalità della politica cinese e della gestione di una situazione così imprevista e imprevedibile. Ragionano sul lungo periodo e pensano soprattutto che i soldi, l'economia, sia più efficace per ottenere i tuoi obiettivi. Dalla parte statunitense c'è naturalmente tutto un altro tipo di storia e di confidenza con la guerra e con la violenza, ma oggi le cose sono molto cambiate rispetto anche soltanto a vent'anni fa. L'elettorato americano su pochissime cose è d'accordo, ma su una sicuramente non è il momento di fare guerra in giro per il mondo. Non sono intervenuti in Ucraina, non sono intervenuti con i soldati nemmeno in Libia, figuriamoci se pensano di fare una guerra alla Cina. È vero che c'è ancora una grande differenza di potere militare tra le due nazioni, però sono entrambe così forti che non sarebbe una guerra da cui se ne viene fuori i vincitori facilmente, ammesso che. Il problema è che ci sono due tipi di fragilità diverse di questi paesi che si confrontano secondo me in questo momento. La Cina ha una fragilità economica per le ragioni che cuocenava prima Giorgio, ma la disoccupazione giovanile è così alta che il governo ha smesso di diffondere i dati. Questo paese è ancora un paese in via di sviluppo, ma si sono fermati gli investimenti pubblici, sono finite le cose da costruire, dice qualcuno in Cina, le città, le stazioni e non c'è ancora un consumo interno capace di sostenere l'economia come accade nelle economie più sviluppate. Gli Stati Uniti hanno un'economia fortissima, oggi molto più forte di quella cinese e anche con degli interventi fatti in questi anni da parte dell'amministrazione Biden di internalizzazione della produzione di chip, insomma, che lasciano ben sperare per le sorti americane sul piano economico, ma sul piano militare sono molto più fragili perché sono stiracchiati su più fronti. Tutte quelle basi militari americane servono e sono servite in questi anni anche per garantire la difesa di altri paesi. Cioè, se vince Trump e arriva la seconda parte della tua domanda, una delle cose che succede molto probabilmente è che gli americani smettono di dare armi all'Ucraina e una delle conseguenze di questa eventualità è che tutti i nostri dibattiti dobbiamo, non dobbiamo, quanto sostenere l'Ucraina finiscono istantaneamente perché l'Europa a quel punto non può più scegliere perché l'Europa non è in grado di sostenere militarmente l'Ucraina, i paesi europei non sono in grado di farlo e allora l'Ucraina da una parte Israele dall'altra parte il Medio Oriente in generale gli americani hanno troppe partite aperte e oggi anzi la cosa che vi dicono a volte è se Biden non avesse completato quel terrificante per la sua esecuzione il ritiro dall'Afghanistan oggi gli americani sarebbero anche in Afghanistan in tutto questo e questo ovviamente è una coperta troppo corta l'amministrazione Trump io non credo che faciliterà la guerra o faciliterebbe la guerra il punto perché ripeto poi questi due paesi non vogliono farsi la guerra ma il rischio di un incidente quando la tensione cresce quando crescono le provocazioni quando aumenta il tono della propaganda nazionalista quando le navi fanno un giro sempre un po' più largo per cercare di anche dimostrarsi con una postura di forza allora gli americani rispondono con un altro Nancy Pelosi va a Taiwan quando succedono queste cose queste provocazioni in reciproco che allora l'incidente è possibile per questo è confortante la visita di Xi a San Francisco degli ultimi giorni perché è vero che non si sono raggiunti grandi passi avanti su quella visita lì ma è stato aperto un canale di comunicazione militare stabile riaperto anzi che permetterà almeno alle leadership militari di Xi negli Stati Uniti di ricominciare a parlare a coordinarsi e questo fa sì che se parte un missile un razzo a qualcuno prima di fare qualcosa alzano il telefono non è poco Giorgio allora siamo in conclusione abbiamo finito il nostro tempo dormiamo sonni relativamente tranquilli in attesa che sperando che non succeda questo di cui parla Francesco questo incidente capace di scatenare non sappiamo cosa domanda facile ah sì sì una domanda facile per chiudere un po' di ottimismo per chiudere allora diciamo sentendo anche quello che pensano i taiwanesi e anche i giapponesi visto che sono stato recentemente a parlare con entrambi non si aspettano loro che sono diretti interessati se vogliamo non si aspettano una guerra un conflitto nel breve periodo però sanno che se e quando la Cina riuscirà a risolvere i problemi interni di cui parlavamo prima potrebbe iniziare anche a prendere in considerazione una unificazione con Taiwan che preveda l'uso della forza perché ovviamente per la Cina risultato migliore sarebbe prendere Taiwan in maniera pacifica cioè pacifica vuol dire senza invadere senza le armi però non è in questo momento non siamo in quella fase cioè i taiwanesi non hanno alcuna intenzione di accettare l'unificazione e siccome Pechino ha fatto dell'unificazione con Taiwan un tassello del risorgimento della nazione di cui vi parlavo prima o scelgono di fare qualcosa oppure quel tipo di progetto viene meno e può anche venire meno la credibilità del partito comunista all'interno del paese detto ciò al momento personalmente penso che i giovani cinesi vogliono solo stare meglio e la vera domanda è lì cioè quanto Pechino può fare affidamento sui giovani sui nuove generazioni nel sostenere un periodo di fatica e di sfida o nel peggio dei casi una guerra ecco probabilmente la Cina non è ancora in quella fase però non sottovalutiamo sempre appunto l'anomalia cioè l'imprevisto perché sì è vero la Cina evita l'aggressione evita lo scontro ma perché culturalmente parlando e tatticamente parlando evita storicamente evita lo scontro quando è in posizione di debolezza ma se si convince di essere in posizione di forza allora le cose possono anche mettersi male speriamo che non sia così speriamo che la comunicazione militare aiuti a evitare ecco incidenti se non altro nel breve periodo grazie allora Xi Jinping come la Cina sogna di tornare impero questo bel dibattito è stato possibile perché abbiamo avuto un sacco di spunti da questo libro di Giorgio Cuscito grazie a tutti voi per essere stati qui presenti adesso parte il video del professor De Romanis che ci racconta le radici delle vie della seta grazie a tutti grazie a Francesco Costa grazie a Francesco grazie a Francesco grazie a Francesco il mondo l'antica oicumene si è rivelata alla cultura greco e romana attraverso la ricerca di merci esotiche una tra queste una delle forse più importanti è appunto la seta oggi insomma va un po' di modo da dire che la via della seta è un'invenzione dei geografi tedeschi dell'ottocento che non è mai esistita una via della seta in realtà diciamo questa è un'affermazione discutibile i geografi come Ritter e Richthofen facevano altro che leggere Ptolemeo e fare due più due e dalla polemica di Ptolemeo contro Marino di Tiro che dalle citazioni di Ptolemeo di Marino di Tiro che si è quindi rincavata la nozione di via della seta Marino di Tiro è un geografo per noi perduto purtroppo è noto solo attraverso le critiche che rivolge Ptolemeo nel primo libro della sua Geografia in Fiegesis Marino immaginava un un'auchmene estesa dalle isole felici fino alla metropoli dei Ceres per 15 intervalli orari cioè per 225 gradi di longitudine ecco può partire dalla prima slide più precisamente diciamo questi la distanza tra l'eufrate e la metropolis dei Ceres era valutata in 62 400 stadi più o meno calcolando a spanne circa un poco più di 150 gradi di longitudine la fonte di Marino di Tiro era un certo maes noto anche come Tiziano uomo macedone e mercante per tradizione familiare il quale aveva scritto una anametresis purtroppo anche questa per noi perduta questo costruì era un mercante che tuttavia non viaggiava lui in prima persona era mercante che mandava dei suoi agenti e attraverso le informazioni dei suoi agenti appunto aveva insomma si era tolto la soddisfazione di calcolare la distanza da Ierapolis sull'eufrate fino al metropolis dei Seres fino a un certo punto questa misurazione era abbastanza precisa dall'eufrate fino alla cosiddetta torre di pietra Liginos Piergos Maestizianus e Marino dietro di lui contavano 26.280 stadi grossomodo appunto 60 gradi di longitudine nel calcolo di Marino e poi dall'Irinos Piergos fino alla metropolis dei Seres le informazioni erano molto vaghe Maestizianus parlava di sette mesi di sette mesi di viaggio che Marino di Tiro traducono in 36.200 stadi è una stima tuttosommato conservativa perché si tratta soltanto di 20 miglia al giorno grossomodo in media e tuttavia è questa la distanza che è oggetto della critica più severa da parte di Ptolemeo lo vedremo le tappe sono ricavabili da un altro passo sempre di Ptolemeo nel capitolo 12 vengono menzionate appunto Ierapolis Ecbatana Ecatompilos poi Antiochia nella Margiana e successivamente la Battriana e dopo Litinos Pyrgos questo posto che ritorna questo toponimo fino a Damiano Marcellino dunque a partire da Litinos Pyrgos poi si stende la via che porta fino ai Seres Ptolemeo immagina un'ecumene diciamo molto più stretta di quella di Marino Marino erano 225 gradi di longitudine Ptolemeo le riduce a 180 e questi 45 gradi di longitudine vengono risparmiati tutti a partire da Litinos Pyrgos in poi Ptolemeo insomma non crede a un mondo così esteso a oriente di Litinos Pyrgos come Maestizianus e Marino di Tiro avevano postulato quindi ecco la riduzione è drastica da 36.200 stadi immaginati da Marino ecco vengono ridotti a 18.100 la metà dunque è da questa polemica che i geografi tedeschi dell'Ottocento ricavano la nozione di via della seta è una via che va dall'Eufrate ai Seres i Seres si sa sono il popolo noto in tutta la letteratura greca e romana e latina come il popolo che produce la seta quindi questa è la via della seta è un sillogismo semplice quello che si può rimproverare ai geografi tedeschi è di non aver letto tutto non aver letto sì di non aver valorizzato anche un altro breve accenno ma significativo di Ptolemeo qualche capitolo dopo si ricorda come dalla dalla terra e dalla metropolis dei Seres non ci sono non c'è una sola via ma ce ne sono due che una delle quali arriva alla Battriana attraverso l'Utino Spirgos diciamo la stessa strada che conosce Maestizianos e Marino di tiro dietro a lui l'altra però va all'India attraverso Palimbotra attraverso Pataliputra sì un'altra cosa che si poteva rimproverare ai geografi tedeschi è la mancata menzione di un passo del Peribus Mariseritrei cioè di un'opera scritta verso la metà del primo secolo avanti Cristo e che insomma menziona le due stesse vie che saranno poi incinitate da Ptolemeo ma le mette in relazione con la seta direttamente con la seta attraverso queste due strade quella che va alla Battriana e quella che va alla appunta alla alla valle del Gange viene la seta ma ecco si distinguono questo anche è molto notevole si distinguono tre tipi di seta cioè erion il bozzolo di seta nema il filato di seta e osonion il tessuto di seta poi un'altra cosa notevole per la prima volta per quanto a noi consta viene citata in un'opera greca il toponimo con cui oggi il paese è noto a tutti gli altri italiani e ai cinesi la fina che è Cina dunque delle due vie che citano sia Peribus Mariseritrei che Tolemeo sicuramente la più antica è quella oggi meno nota cioè quella che puntava alla valle del Gange noi lo sappiamo da un dettaglio dell'avventura del diplomatico cinese famosissimo Chen Chen che è stato inviato dalla corte Anna a cercare alleanze contro gli Yunnu dopo un viaggio insomma durato più di dieci anni arriva a Daxia cioè in Battriana e qui con sua grande sorpresa vede della seta di Shu che è una provincia una prefettura dell'impero Han ancora in via di sinizzazione e avendo richiesto quando ho chiesto alle persone come avesse ottenuto tali articoli l'agente di Daxia mi ha detto i nostri commercianti li acquistano nei mercati di Yuandu quindi Chen Chen viene a conoscere un commercio della seta che è sconosciuto agli imperatori Han e sulla base di questa presenza circolazione della seta di Shu in India e in Battriana insomma fa delle valutazioni sulla geografia dell'Asia stimerei che Daxia cioè la Battriana sia 12.000 li l'unità di misura circa mezzo chilometro al sud ovest di Han ora se il regno di Yuandu cioè l'India è situato a diverse miglia di li al sud est di Daxia la Battriana ottiene merci da Shu sembra che Yuandu non debba essere molto lontano da Shu e cioè insomma lui insomma suggerisce di sfruttare questo passaggio che diciamo non è ostacolato dai Qiang o dai Yunnu per raggiungere l'India e anche la Battriana ora insomma la vitalità di questo commercio della seta tra Shu e la valle del del Gange è anche testimoniata da un passo dell'Arta Shastra un'opera sanscrita insomma famosissima un trattato di politica che cita i cina patta i tessuti di cina che sono cina bumigia sono prodotti nella terra di cina ecco la nozione di cina da cui poi il greco cina è insomma intrinsecamente è connessa con il commercio della seta la seta è della terra di cina viene dalla terra di cina terra di cina ecco che nel periblus mariseritrei invece è una polis è il nome di una città polis mesoghe ios meghiste che è situata all'estremo nord dice l'autore del periblus mariseritrei è sotto l'orsa minore di qui appunto un un problema perché perché nel prima di Ptolemeo le esplorazioni i viaggi commerciali dei mercanti occidentali si estendono al sud est asiatico diciamo questo gli accenna Ptolemeo da Costoro cioè da coloro che vanno in India abbiamo appreso anche altre cose sull'India più in dettaglio regione per regione anche delle parti più remote del paese fino alla penisola d'oro cioè alla penisola malese e di lì fino a Cattigara che è da qualche parte oltre la penisola d'oro in primo luogo Costoro sono d'accordo a riferire che la navigazione eccetera eccetera dicono anche che il paese dei Seres e la metropoli dei Seres si trovano al di sopra di quello dei Sinai cioè qui il Periblus Mariseritrei diceva il sericon quindi il tessuto serico viene da Sina il che induce a credere che Sina e Seres siano la stessa cosa agli informatori di Ptolemeo invece sembra che si debba distinguere le due cose una cosa sono i Seres l'altra sono i Sinai e infatti Ptolemeo così fa distingue i Seres e lo fa perché la difficoltà di tutti è a concepire un paese che cominci a 8 gradi di latitudine sud e finisca a 63 gradi di latitudine nord perché poi questo quando si mette sul diciamo su carta l'estensione dei Seres Ptolemeo che già aveva ridotto dimezzato la distanza dalla torre di pietra fino alla metropoli dei Seres perché mi sembrava troppo grande così diciamo divide i Seres dai Sinai facendone due entità diverse distinte insomma si ha quasi la paura di 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 concepire un paese così grande insomma la cultura greco-romana non ha avuto mai la percezione di un impero cinese un impero cinese con una sua filosofia una sua raffinatissima diplomazia ha solo avuto la sensazione ha saputo che esisteva un paese della seta ecco qui l'identificativo è la merce un paese della seta bisognerà aspettare il sesto secolo Cosme antico pleuste dirà che zinista questo è il toponimo usato da Cosme è stesso cinastana la terra di Cina il toponimo insomma di stampo indiano e sarà una tanto quella a cui si arriva via mare dal sud-est asiatico quanto quella che si raggiunge via terra attraverso la Seidenstrasse di Richthofen grazie grazie